La streak continua con 26 video e 26 giorni consecutivi di upload Esatto ragazzi, da come avete chiaramente sentito e da come avete chiaramente visto Siamo quasi al trentesimo giorno consecutivo di upload Che tra l'altro è il mio obiettivo Però oggi siamo qui in un video particolare, ok? Perché sarò uno dei giocatori più pericolosi di questo server Ma prima di iniziare con il video, ti invito già da subito a lasciarmi un bellissimo like Perché ai 1000 likes nell'arco di 24 ore farò uscire un altro video domani O forse una streaming, è il nuovo anno, tranquilli Vediamo un po' a che ore mi sveglio e... Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' Ma detto ciò, vi lascio al video Boys, allora, parto già col dirvi che questo video già l'avevo fatto, ok? Ed infatti, da come potete chiaramente vedere, ho ben trenta cuori Però questi cuori dovranno svanire, esatto Perché ragazzi, andremo a rifare questo video da capo Ho letteralmente speso un'ora e venti del mio tempo, sacro E dato che siamo anche a fine dell'anno dovevo fare tipo trentamila cose diverse Per niente, ho speso tutto questo tempo per niente E sì, purtroppo adesso devo... Giustamente mi terrò le cose Queste sono le cose che avevo guadagnate nel video E più, c'ho una base, una mini base Questa qua, dove tengo tutte le cose che ho guadagnato Che, tra l'altro, ragazzi, avrò bisogno di voi Darò ad alcuni di voi queste cose qui Persone che entreranno nel mio clan Quindi se siete interessati ad entrare nel mio clan, fatemelo sapere Questo è il server, metamc.it Questo è l'ipista sullo schermo in questo momento Grazie editor per avermi aiutato a questo modo Praticamente, entrate Potete entrare pure la bedrock, non sono ancora ben sicuro come si faccia Però, vabbè, scopritelo Siete bravi, dai, siete intelligenti E sì, per il momento queste robe potrebbero essere vostre Solo ed esclusivamente se entrate nel mio clan Quindi entra a far parte del mio clan Bene boys, siamo ritornati allo spawn E purtroppo siamo anche ritornati ai nostri 10 cuori Avevo guadagnato 30 cuori nel modo più epico e incredibile Però è andato tutto così Tutto così, in un click E dato che sono un ragazzo estremo a cui piace fare cose pazze Giustamente, andrò a rifare tutto da zero Quindi diciamo che come se in questo momento stessi cercando di guadagnare una cosa come 60 cuori Quindi mi autoproclamo il player più forte Se effettivamente ce la farò in questo video E direi che abbiamo parlato fin troppo Iniziamo con il pvp Ok ragazzi, allora siamo qui in un random tp E tra l'altro questa è la nostra armatura che si sta per distruggere Abbiamo i stivali di Marques vestiti dallo stregone Una corazza di nederite con protection 2, un breaking 2 E un elmo molto ma molto buono Abbiamo poi tra l'altro una spalla con knockback 1 e sharpness 2 E con questa spalla ho fatto un sacco di kill Perché purtroppo, ripeto, non potrete vedere perché ho perso il video Però sapete una cosa? Quando alle ciance recuperiamo tutto Calcoli matematici, così a caso, ok 983-111 Non ho voglia di fare il calcolo Ok, in questo momento ho appena scritto questo messaggio Tipatevi solo per pvp No screen Perché non voglio che la gente venga a fare screen Sennò sarebbe un modo illecito per fare i cuori Non voglio E vi killo a vista Ciò vuol dire che appena li tippo Il pvp parte Quindi, ora ho accettato un tp Non so come, dove, quando, chi Vediamo un po' Ok Marques? No! Non so cosa vuoi fare Vuoi davvero combattere? Hai XP? Non ci credo ragazzi, Marques Davvero? Ok, a posto Grazie Bene, siamo pronti Vai, let's go Oh Non ho totem Ok, ora ce l'ho Vacci piano Marques Vacci piano Che è tutta l'armatura OP Guardati Guardati Con tutta l'arma OP che c'hai Che fa? Che fa? Non ci credo Ok, a 30 cuori 30 cuori c'ha Questa vuole mettere il cristallo qui Guardatelo Urco Aia, 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 aia Aia, aia, aia Far attenzione Ora faccio finta di scappare Vediamo se mi vede E cerco di fregarlo Marco Vieni Vieni Fufi Ok Ora qua lo frega No, 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 no Non ci credo C'ho un knockback 2 No, 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 no Oddio Sì Urco Ok Eh sì Volevi fregarmi Eh però No Oddio Oddio, sì No, no, no Sono morto Sono morto Sono morto Sono morto Urco Aiuto Marcus è tipo il boss finale Che devo ancora battere Purtroppo Oddio la mia corazza Però hanno un sacco di danno È nulla così E non perde il cuore però Uh Chorus No, psych Ok Si è andato qualcosa lui Oddio Si è andato qualcosa a me No, no La corazza Aiuto Aiuto No, no, no Così no Però non vale così Oddio sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Sta arrivando Oh oh Eh no Non mi prendi Non mi prendi Aspetta No Era sdraiato sul cristallo Stavo letteralmente dormendo Ma non mi prendi Ma non ho fortuna C'ho lo sfrutto E giustamente non mi tippo Vediamo Ah il ct non funziona C'ho lo sfrutto Ok si funziona Ush Un ieri Ancora No No Un ieri Un ieri Ho finito il totem Nulla Muoio 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 Devo scappare Sono senza corazza Non ce la posso fare Mi sono salvato A filo A filo Allora Slash home Cerco di scappare Vediamo se c'ho qualcosa qui La corazza distrutta Sì ecco Perfetto Totem E direi di tornare subitissimo Ok boys Allora Siamo ritornati Abbiamo preso pure all'oscuro Perché non si sa mai Magari utilizzeremo questo Per magari chi cerca di uccidermi Ed è nudo E per il momento sì Abbiamo una spada Knockback 2 No scusatemi Knockback 1 E abbiamo la nostra spada Nuovissima OP Con sharpness 5 Fire aspect 2 On breaking 3 Che tra l'altro ho guadagnato Sempre nel video precedente Che purtroppo è scomparso Non ho le perle Infatti andiamo subitissimo A sciopparcele Oddio la sta Vediamo se c'è qualcosa in asta 10.000 dollari per Vabbè La gente quando sa fare business Ok Allora Ce ne compri 800 per Ai 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 4.800 Mi posso permettere 5 perle E basta Direi che possiamo tipare qualcun altro Oh no Uccido a vista L'ho detto L'ho detto Uccido a vista Io l'ho detto Io l'ho detto Uccido a vista Vediamo un po' chi tippo ora Vediamo un po' 1, 2 Oh Oh no Questo non me l'aspettavo Ai 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 Ma Oh no Devo uscire Devo uscire Devo uscire Devo uscire un attimo Perché devo capire un attimo Cosa sta succedendo Ok Oh matti Se è uscita la mia discord Grazie Direi di mangiare una mela d'oro Oh No 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 Devo ucciderlo Devo ucciderlo Non è che lo faccia lui Ok scappiamo un attimo Ush Devo mangiare un attimo Una mela d'oro Arriva Preso uno Ok Fatto il totem Fatto il totem Oh vabbè Ho tirato la perla Spero che abbia perle lui Ho visto l'endermite Devo pigliarlo Devo prenderlo Devo prenderlo Deve sta andando Deve sta andando Deve sta andando È morto È morto Nel suo mente Il volo di discord Chi è che entra in stanze Esce Cerchiamo di prenderlo Vediamo se riusciamo a prenderlo Eh no sta scappando Sta scappando Non lo prenderò mai Eh no Chi lo prende ma questo Eh non l'è scappato Andiamo Sei ancora qua Eh no scappato Scappato Ho sprecato già Tutte le mie perle Per una quasi kill E ce l'avevo quasi fatta Allora Vediamo un po' Chi ti piamo adesso Un altro nudino Io l'ho letto Ok Io 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 Devo fare attenzione Perché non ho perle Quindi non posso tipo Teletrasportare La mia piattaforma Più bassa Magari si uccide lui Oddio forse 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 io scapparlo così Vediamo Andiamo Oh Oh Ok Oh mio dio Vestiti di Babbo Natale Bene 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 Siamo già Ai 5 cuori guadagnati Tra l'altro qui abbiamo Un'armatura in diamante Che andremo a posare adesso A casa Quindi facciamo slash home Posiamo tutto qui E ripeto ragazzi Questa armatura potrà essere vostra Solo ed esclusivamente Se entrate a far parte Del mio gang Del mio clan Scusate Che sono un gangster adesso Ora non ho perle Quindi vediamo se riesco a fare Un business con qualcuno Ora cerchiamo di fare un po' di shopping Da alcuni di voi Vediamo un po' se riesco a prendermi delle perle Con i soldi che ho Perché sono molto povero Ok frostbite Io ti Ah così Regalo 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 Se vuoi sì È ovvio che voglio È gratis Ora abbiamo Le nostre perle Finalmente Mi servono boccette xp La mia armatura è quasi distrutta Frostbite No è posto 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 Non c'è più niente altro Basta Basta Ok siamo ritornati E stavolta abbiamo aggiustato pure l'armatura Vediamo un po' chi tippiamo Vediamo un po' Vediamo un po' E nulla Un'altra inederida Ok Ucci la vista Ok lo prendo subito E no Non mi scappi Non mi scappi Oh Cerco di scappare Cerco di scappare È morto A filo A posto A posto Corazza leggendaria Ragazzi Ho altri items per voi Let's go Ok Allora Riprendiamo un attimo i cuori Posiamo queste cose qui Giustamente sempre per voi Quindi facciamo così Blah 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 Boom 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 Guarda questo Guardate Oh È nulla Eh raga Io l'ho detto Io l'ho detto Uccido a vista Uccido a vista L'ho detto Eh no A cosa ho appena assistito Scusate Non l'ho appena visto Due cuori Ma È nulla Guadagno passivo Che vi devo dire Non farò domande Però C'è un altro pezzo Di armatura inederita Che darò sempre a voi Giustamente E se mi state chiedendo Il perché Non sto mettendo nulla Nell'ender chest Adesso ve lo faccio capire Perché È pieno Di roba che ho sempre Farmata nel video Blah 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 Voilà Mettiamo anche questa roba qui Devo fare un'altra chest Siamo così ricchi Che veramente Allora Facciamo così Boom E mettiamo questa roba qui Tra l'altro Sto mettendo un sacco di cacca dentro Che non mi servirà mai Però vabbè Dopo sistemerò tutto Ah Stretching Bene Siamo ritornati Sul campo di battaglia Ora Accetterò dei tp Ok Allora Questo è nudo Lo faccio subitissimo Questo è mio Cuore mio E poi c'è quello inederita Eh no bro Vabbè Intanto penso a lui Va Vieni da me Ok Ora Eh no Eh no Io l'ho detto No No Non funziona così Non funziona così No funziona così Dovete leggere bene i miei messaggi Crossbow Mi sta dando tutto Mi prendo tutto allora Ed è morto Perfetto Boom Perfetto Eh bro Ti conviene andare via Prima che cambi idea su di te Tutto mi ha scritto Tutto mi ha scritto Se mi chiedi di far iscriverlo Uccilo Io voglio regolare Ah Ok Grazie Grazie mille Bellissimo Ti voglio bene anch'io Me l'hai appena rubato Con quella frase che hai appena scritto Stop the cap Stop the cap No Stop the cap TPS TPS Tre volte come al solito E ora Prigheppoliamo Ok Uh 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 Ok tu muori Subito Mi serve il tuo cuore Preso Grazie Ora c'è lui Con questo in diamante Con l'arco Dov'è? Dov'è? Scomparso Dov'è? È morto? Ma? Sì è morto È morto È È Blocchi di Daven Ok solo perché me li ha give È nulla Ho detto niente Screen No screen No screen Ragazzi sto citando queste persone Non perché non voglio fare screen Ma perché giustamente uscirebbe un video Dove dovrei fare solo e discursivamente screen E li posso fare tranquillamente allo spawn Dopo questo video Però oggi abbiamo un obiettivo Non possiamo farci distrarre Aspettate Diamanti Magari li posso vendere Fermi 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 un secondo Quindi posso vendere Vediamo quanto 40 dollari per un diamante Quindi ciò vuol dire che io adesso farò un bel po' di soldi Giusto? Vediamo Fatto E ora sono a 4.000 guadagnati Perfetto Yes TPS TPS Come al solito tre volte Mangiamo la mela d'oro Oh 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 Eh non vorrei Ok Ok Chiave cuore Shulker Doni natalizi Ma Embe Interessante Grazie mille Però Io avevo detto Ok Lo lascerò stare Solo per te perché mi ha fatto sto regalo Che andrò subitissimo a posare a casa Ah tra l'altro aspettate C'ho una chiave cuori Andiamo subitissimo ad aprirla Ancora qui Vediamo quanti cuori riesco a guadagnare 6 cuori Davvero? Oh è uno scherzo Ho appena vinto 6 cuori? No ma io non li vedo Va bene il dubbio Noi dobbiamo arrivare a 30 Quindi il video continua Vai vediamo chi mi offri Righieppolo Pelle Pelle Ush Bene bene Bravo mi piace Così mi piace Così mi piace Così mi piace No in acqua no Per favore Detesto fare pvp in acqua Però il totem Voglio prenderglielo Voglio prenderglielo A tutti i costi Vediamo se riesco a prenderlo Tipo Preso È morto È morto Un hit Un hit Un hit E riparte il totem Sta pure annegando Quasi preso Quasi preso No è scomparso Non ci credo Andiamo un po' In pelle Sono Denis No bro No bro No no Mi spiace bro ma Così non va Grazie Oh tra l'altro mi ha dato Proprio direttamente il cuore Siamo a 27 cuori Uuuu Ok innanzitutto Ok tu via intanto Vai combatto contro di lui Uuu Lo scudo Quindi tu porti lo scudo Va bene interessante Facciamo così allora Ti giro attorno eh Guarda che ti giro attorno Non mi sono tovaluto C'è i cristalli Uuu Quasi morto Quasi morto Quasi morto Preso Preso Uuuu Allora Vediamo un po' Cosa ci sta qua Ehi Eh no Mi raspa le robe No Nessuno mi raspa le robe È l'ultima cosa che dovrete fare Vediamo quest'arco Cosa c'ha E meno male che l'ho preso E tra l'altro ci sta un altro cuore qui Aspetta Lo prendo adesso al volo Boom 29 cuori Ce ne manca solamente uno E abbiamo completato l'obiettivo Poi a fine video vi mostrerò Tutto il loot che abbiamo Magari organizzerò un po' le ceste Per poi dopo decidere un po' il cosa farne Ma sapete una cosa? Dato che prima All'inizio del video Ho fatto uno scontro Che non sono riuscito a completare Direi di riportarlo un attimo qua Ok Marques Pronto? Urlo di trionfo Vai Adesso lo prendo Non mi interessa Non mi interessa Adesso lo prendo Perché scappi? Perché scappi? Perché scappi? Uuu È vero che tu c'hai la natura bella Mi sono limitato di questo piccolo dettaglio Allora giocherò ad astuzia Aia 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 Ok Facciamo così Non prende manco knockback Che c'ha C'ha i sassi ai piedi Oddio No No in acqua ero Ok Oh 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 Mangia la mela Mangia la mela d'oro Ok Cerchiamo di fregarlo a Marques Guardatelo Guardatelo C'ha spine dell'armatura E prende tipo danno ogni singola volta che lo colpisco Se cosa è tipo È fastidio Vieni qua Dove scappi? Dove scappi? Dove scappi Marques? Dove scappi? Dove scappi? Dove scappi? In acqua Io detesto combattere Esatto Bravo Grazie Però tu Però Ghost Enchant Però Che fa? Perché sei fermato? Devo mettermi la turbina Vabbè Vabbè Aspettiamo che Marques mette la miniatura al video Questo video non mi si salva veramente Ok Pronti per il secondo round Ho comprato un paio di bocce txp E Vai let's go Stavolta sapete una cosa? Switcho la spada Le voglio dare i knockback Esatto Questo mi serve Fk Ne approfitto Oh Sì È vivo È vivo È vivo È vivo È vivo Ma che sei un pesce Marco Anche tu No dai Detesto i pesci Io Oh 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 Aiuto Mi fa un sacco di danno Eh più che altro la spada che c'ho non è che sia al massimo Più che altro Puro di trionfo Riesco No Bye bye Ok Wow E vabbè ma io non ho fatto resistance Lui invece sì Dove scappi Dove scappi Dove scappi Oh Scappo io Scappo io Scappo io Scusa 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 Aia Penso di fare una roba Ok Oh no 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 Ok Qua ci muoio Qua ci muoio Aiuto Non prendo No Ma poi Il fatto che c'ha spine Rende tutto più difficile Ho quasi anche finito le miele d'oro Aiuto L'ho perso L'ho perso ragazzi Devo fare un qualcosa per forza C'è qualcosa dietro di me libero Ok Oh 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 Sono sul punto Di morire Sto cercando di fregarlo E portarlo qui Ok Oh Non prendo No Nulla Totem Veloce Ok Ciao Russo Un attimo Perfetto Sì Ha 40 cuore Ancora sto uomo Guardalo Ha già capito come sta giocando Ha già capito eh Oh mio dio Oh mio dio Sarà intensa Ok Mangio un attimo Ecco è ripartito No 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 Adesso cammino sui cristalli Ah Facciamo così No E dai Oh Sì No 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 E vai Ma non prendi Questo Con speed Ti lo giuro Marcus Veramente Così è morto Oh 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 Ok Oh è morto Così è morto Così è morto Ciorus 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 No 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 adesso No adesso Ciorus Ok grazie Oh 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 Aiuto Ok non dovrebbe avere molti totem Cerco di buttare giù più totem possibili Però cavoli ha tutti quei cuori E la spada che fa più danno Guardate non prende knockback Raga non si sposta Così è morto Così è morto Così è morto Così è morto No non ci credo Lug È nulla È dura È dura È dura Guardate non riesco a andare Oh Mamma mia Che morto Ok Aia Ok Oh dove è Non ho più totem Eh non ho più cristalli volevo dire Dai Non ci credo Sì ma dai Aiuto La motore di Marcus È troppo 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 Oh oh Di nuovo Di nuovo Di nuovo Di nuovo Non riuscirò mai Lo ucciderò così A meno che lui si frega da solo Spara Giusto Mettiamo la spada giusta Oh 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 Ok vai 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 Aia 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 Chorus 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 Uh Eh non ce la farò mai raga No 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 Uh 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 Oh no È già qui Non prende Non prende knock Raga Non prende knock Guardate Guardate Uito Chorus Chorus No 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 Guarda Ok Ma aiuto Scorna se non parlo Ragazzi ma sono tipo Concentratissimo Eh perché non ho nulla Non ho più cristalli Non ho più niente Sto combattendo letteralmente Così Arrottipidini 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 Lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo No 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 Si è cresciata Lo devo prendere No no Lui sta andando Lui sta andando Mi sta scappando No 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 Si No Cosa ho fatto No 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 Non ho piccone Fuggi eh Aia Aia Marquez Aia Marquez E nulla Quindi è così Finisce così Va bene Va bene Ci riveccheremo Vabbè E' stato E' stato interessante Devo dire La cosa che mi è andata meglio E' il fatto che avevo più I bocciati XP Quindi potevo rigenerare la mia vita Però GG per Marquez Lancemi la data E mi preparerò Da stabilire Non sarà Molto lontana E' stato un bel fight Ma senza vincitore Tra poco ce ne sarà uno Dunque ragazzi Direi che possiamo anche finire il video qua Siamo a 29 cuori Ma penso che nel prossimo episodio Il nostro trentesimo cuore sarà Marquez O almeno si spera Torneremo più forti di prima Quindi Innanzitutto Torniamo un attimo a casa Così vi mostro un po' Cosa abbiamo ricavato da questo video Innanzitutto Tutta questa bellissima roba qua Come potete vedere Delle archi Oppi Guardate Guardate Raga dovete solo entrare nella mia fazione Basta Tutto qui Entrate nel mio clan Volete entrare? Fatemelo sapere nei commenti E nulla ragazzi Noi ci vediamo in un prossimo bellissimo video Bella Ciao 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 Ciao